L'azienda Angelo Cappellini, fondata da mio padre, nasce nel 1960. Siamo un'azienda che produce arredamento in stile. Il catalogo dei prodotti che commercializziamo è composto da circa 1.500 articoli. Il fatturato aziendale è attorno ai 18 milioni di euro e abbiamo una forza lavoro composta da 68 collaboratori. L'investimento in termini economici che abbiamo supportato è stato ripagato a breve, direi nel giro di un paio d'anni. Negli ultimi anni l'aumento di fatturato siamo riusciti a gestirlo agevolmente proprio grazie alle peculiarità e alla semplicità di risposte che SaBusinessOne a livello commerciale e a livello amministrativo ci garantisce. Semplice al punto che anche una persona come me che di computer poco ne mangia ha avuto l'occasione di imparare questi nuovi processi. Pertanto davvero ci siamo resi conto che la facilità dell'utilizzo dell'applicativo di produzione generato dal Brain System, parte di SaBusinessOne, ha aiutato anche i miei dipendenti a parlare in un'unica maniera, in un modo univoco ed avere la situazione per le proprie competenze a portata di un click. L'inserimento di SaBusinessOne ci ha portato a un miglioramento di tempi nell'inserimento degli ordini dei preventivi per i clienti. È anche molto valido perché si può vedere anche il lavoro che ha fatto le diverse colleghe, cioè sono collegati uno con l'altro dai vari computer e possiamo vedere dalla nostra postazione il lavoro fatto e svolto da determinate altre ragazze. Ed è questo molto positivo. Con Brain System, partner di SaBusinessOne, facente parte della costellazione Valruan, ci siamo trovati subito a primo momento per quanto riguarda la gestione della produzione. le loro competenze specifiche nel campo della gestione di produzione e delle commesse di lavorazione ci hanno aiutato ad ottimizzare i nostri processi interni. Grazie. Grazie.